Avere già avuto in questi anni la possibilità di avere un punto prelievi per noi è stato veramente non plus ultra. Ovviamente adesso anche questa donazione ci fa essere al pari con gli altri comuni perché è una donazione importante appunto per il nostro punto prelievi perché una poltrona che poi diventa anche lettino per il punto prelievi è importante. Una nuova poltrona per il punto prelievi di Marciano della Chiana. A donarla il Calcit Val di Chiana anche grazie al prezioso contributo dell'associazione La Chianina Ciclo Storica che ha sostenuto il progetto con una donazione in memoria di Carlo Sandroni. Questo significa che quando si lavora insieme sia le associazioni che la ASLE si lavora a vantaggio della sanità del territorio perché la sanità di prossimità significa in questo caso poter fare l'analisi del sangue vicini senza spostarsi ad Arezzo. Questa è soltanto una dei sei poltrone che il Calcit ci dona oltre a una serie di carrozzine per una struttura residenziale quindi un modo per lavorare insieme per lavorare meglio tutti quanti anche soprattutto gli operatori quindi io devo ringraziare il Calcit per questa sensibilità che dimostra soprattutto sulla Val di Chiana e Arezzo molto in maniera continua e aiuta sensibilmente e concretamente le strutture sanitarie. Il punto prelievi di Marciano della Chiana che si trova in via Piave sarà operativo ogni martedì. La nuova poltrona contribuirà a rendere piacevoli e confortevoli le operazioni per tutti i pazienti che usufruiscono di questo servizio.